Dai ce la posso fare Quasi completate questo livello Dai dopo una settimana Che cosa è successo? No 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 computer 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 Ci sei? Computer Cosa? No si è scaricato Non ci credo Ragazzi stavo per completare Un livello su un videogioco Che era una settimana Che non lo riuscivo a completare E si è scaricato il computer Mentre giocavo Il ciao vuol dire che non mi ha salvato I progressi di questo livello Dovrò ricominciarlo da capo Perché Beh direi di fare un'altra cosa Mettiamo in carica il computer Ok E vediamo un po' sul telefono Se fa vedere qualche novità della città Qualcosa di fare nel tempo libero Mi è venuta un'idea Nella città è stato da poche settimane Inaugurato un nuovo negozio Praticamente vende skate Ed attrezzature E dice che è anche un po' uno skate park Allora direi di andarci Sarebbe la volta buona per imparare ad andare sullo skate Visto che non sono molto brava Allora vestiamoci Di scarpe Mi potrei lasciare queste Secondo me vanno comunque bene Poi oggi sento caldo Quindi come vedete Non ho giacche nulla Forse mi dovrei mettere un giacchettino Ma no Non ho freddo quindi Però direi che al posto di andare in giro Con le cuffie Con il cappellino che ho All'entrata di casa Di mettere questa fascetta Che mi piace anche tanto Ok Stavolta però Non scordiamoci La carta di credito Che è importantissima Se vi ricordate L'ultima volta Quando vi ho fatto vedere La mia morning routine Sono andata al supermercato E dopo aver fatto tutta la spesa Sono dovuta tornare a casa E prendere la carta di credito Che avevo dimenticato in cucina Allora Dove è Ronald Il mio cagnolino Oddio Giusto L'avevo lasciato Atturare qui sul divano Spegniamo la tv Allora Meglio Non fare rumore Uscire zitti zitti Andiamo allo skate park Andiamo Vabbè Un po' lontano Forse lo è Vabbè Però Non lontano Come il supermercato Che si trovava di qui Quindi andiamo Eccoci qui Questo qui è il negozio Sia di abbigliamento Ma vende anche skate Secondo Quello che dice Internet Dovrebbe Essere anche Metà skate park E vendere skate Oh Uno stereo Ma potrò prenderlo Che bellissimo Non lo so Se è in vendita Vabbè Lasciamolo qui E andiamo avanti Allora Dei cappelli Belli Soprattutto questo Troppo nel mio stile Carinissimo Provo Non so se comprare cappelli Poi Cioè Questi sono anche cappelli invernali Che potrei usare in inverno Ma diciamo la verità Marzo È abbastanza vicino Mancano due mesi Però È abbastanza vicino E quindi con marzo Si avvicina anche la primavera Quindi Boh Non so se mi servirebbero ancora Qua cosa abbiamo Abbigliamento Felpe Poi delle scarpe rosa Yeah Carine Carine Poi Delle felpe colorate Delle maglie Allora Devo dire che Di abbigliamento Non mi fanno impazzire Qua cos'è Dei marsupi E delle borse Però che anche queste Non mi fanno impazzire Uh Che bello specchio Ma È un po' sporco È meglio pulirlo Faccio un favore al personale Meno male che io porto sempre con me Dei fazzolettini Puliamo Eh Ma che cos'è questo Un pacco regalo Apriamolo Sono super curiosa di vedere cosa c'è dentro Dei guanti Forse tipo Per proteggersi Per non farsi male E sono già Un po' più nel mio stile Colorati Sull'azzurro E queste qui Allora Però andiamo avanti Perché non mi soddisfano Non voglio prenderli Qua cosa abbiamo Dei caschi E altri guanti Ok Qua una cosa che mi piace È questo casco Ma è bellissimo Ok Questo qui Mi sa Che lo prenderò Allora la cosa La cosa certa che prendo È un casco Perché se no Mi faccio male E tra questi Io adoro questo Quindi Lo prendo Ma cos'è questo Cosa qui Sembra un pulsante Vediamo Si è acceso Ma Non lo so Forse ci sono Vari pulsanti Per il negozio Ma Perché dovrebbero mettere Dei pulsanti Da far cliccare Ai clienti In un negozio Vabbè Continiamo Allora Qua abbiamo Delle scarpe beige Qua Abbiamo Dei cappelli Delle visiere E la cassa Dove dopo passerò Uh Qua ci sono Delle bombolette spray Belle Belli Degli skateboard Sono bellissimi Allora io direi Di mettermi il casco Poggio qua Un attimo Carta di credito E fascetta Di provarne uno E quale proviamo Non lo so C'è davvero L'imbarazzo Della scelta Guardate che belli Beh Sono bellissimi Questi Skate Oddio È sbucato fuori Uno skate dorato Allora vado su questo Non si abbina Con il mio casco Ma Vabbè Allora Vediamo come si va Su uno skate Oh Aia Mi sa che non ci so andare Sugli skateboard Sono un po' scarsa Vabbè Comunque Io voglio vedere Se ci sono altri pulsanti Come quello Oh Aiuto Sto prendendo velocità Sto prendendo velocità Aiuto Ah Via Ecco cosa succede Se prendo troppa velocità Oh Ragazzi Qui Ce ne sta uno Quello l'ho già cliccato Ragazzi Qui E ma Che cosa hai fatto Che cosa Io stavo facendo Le smarfi Allo specchio Tu Cosa hai fatto Ah niente 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 Uuuu E uuuu Ok Questa Ce l'ho fatta Aia Mi sbaglio Uuuu Uuuu Yeah Aio Mi sa che non sono bravissima Ad andare sullo skate Quindi Qua cosa abbiamo Altri skate No Cioè Si Però mi sa che Non si possono Leavare dalle teche E E niente Non si possono Leavare dalle teche Ma ragazzi Io la Vedo un pulsante Che è come Quelli che abbiamo cliccato Prima Però è già colorato Non mi sembra Di averlo già cliccato Oh Che belli Sono Davvero Bellissimi Oddio Sono bellissimi Ragazzi Sono Un casco Durato Che si abbina Con Lo skate Che abbiamo trovato Prima E un casco Unicorno Ok Compro questo Mi dispiace Casco Viola e rosa Però quello dell'unicorno È molto più bello Ora posso fare Una salita Forse Vediamo E Ah Niente Oddio Dove è finito Lo skate Allora Vediamo Se io vado Qui Aio Ma Non sono Proprio brava Dovrei prendere Lezioni Allora Proviamo a fare Questa discesa Aio Ma sono Proprio Scarsa Se cado Ogni volta Aia Non ce la faccio più Devo prendere Lezioni Di skate Che davvero Non ce la faccio più Ragazzi Cado Sempre Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta L'unica cosa Che so fare È Andare Un po' Così Però Nient'altro Per il resto Cado sempre Aio Sto continuando A farmi male Sì Ce la sto facendo Do Aia Dovrei chiedere Se tengono Lezioni di skate Che se no Continuo a cadere Senta Lo skate park Sa che è utilizzabile Solamente Da chi Ha già comprato L'attrezzatura Qui Non puoi giocare Con le attrezzature E gli skateboard Che non sono Di tua proprietà Ah Ehm Scusi Non lo sapevo Allora Vogliamo pagare Skateboard d'oro E caschetto Ehm Aspetti un attimo In realtà Non volevo comprare Lo skateboard d'oro Cioè È bello Però Non si abbina Con il casco Quindi vorrei Questo qua rosa Ok Lo metto Al posto di quello E compro questo Poi vabbè Di vestiti Come ho detto Non è molto Il mio stile Scarpe Ne posso fare almeno Quindi sì Sono veramente Questi due Ho deciso Voglio prendere Il casco E lo skate Ok Finalmente ho deciso Quindi Uno skateboard 4 euro 4 euro Uno skateboard Vabbè 10 euro Così poco Cioè Di solito I skateboard Costano un po' 50 euro Ehm In questo negozio Costano 4 euro Wow Ehm Vabbè Comunque Pago Bip Perfetto Grazie mille Ehm Senta Le voglio fare Un'altra domanda Che cosa Ma Ehm Qui Fate Fate Anche Lezioni Di skateboard Perché Sa Sono molto Scarsa Lei è molto Scarsa Ehm L'avevo già capito Comunque Sì Facciamo lezioni Giorgio Vieni Cosa c'è C'è una Che vuole Delle lezioni Di skateboard Perché dice Che è scarsa Infatti Cate sempre Ehm Ah sì Salve Molto piacere Io sono Giorgio Io sono Maria Stella Mi servono lezioni Di skateboard E quando posso iniziare Ci possiamo vedere Anche domani Domani Ehm Aspetti Devo vedere Un attimo Possiamo fare Magari La prossima settimana Ok A che ora Alle 17 Ok Ok perfetto Aspetta che prendo La mia agenda Mi segno Lezione Ah sono 50 euro Lezione Cosa scusi Sì 50 euro Lezione Che cosa Ma scherza Cosa di più Una lezione Che lo skateboard Sì scherza Sempre Tranquilla Sono 10 euro Lezione Meno male Comunque Io ora devo Andare a Ripulire Una cosa Qui ci sono Una partita D'acqua La devo Riparare E anche Pulire Allora Qualche cosa Pulisco Via Pozza Brutta D'acqua Poi Tempo che La tappo Si ricrea La pozza Quindi Non ha Senso E quindi Direi di Riparare Subito Ok Cos'è Questo pacco Boh non lo so Magari io Do a quella Ragazza Di prima Puliamo Ancora un po Ok ho pulito Abbastanza E vediamo Se quella Ragazza Vuole Questo pacco Salve Stavo Riparando Un tubo Rotto Con lo scotch Sì Non abbiamo Altro Ok L'ho tratto Questo pacco Io lo regalo Ah grazie Chissà cosa c'è Dei guanti Se li può tenere Non mi interessano Oro anche questi Belli E allora Se me li posso tenere Me li tengo E Attrezzatura Un po' stona Però vabbè E ora Vado Ciao Ma aspetti Lei non sa Aia Non so andare Sullo skate Giusto E allora Direi di tornare a casa Quindi Eccomi arrivata A casa Dovrei mettere Tutto in camera mia Oppure Lo lascio Qua l'entrata Visto tanto Lo skater Non si usa in casa Quindi Potrei lasciarlo All'entrata Non lo so Vabbè Ora lascio tutto Un po' così I guanti Me li levo Ecco Levati Metto pure questi Vicino allo skate Poi dopo Vedrò cosa farci Quindi andiamo a vedere Ronald Che guai ha combinato Non ci credo Ma È stato tutto Questo tempo È stato tutto Questo tempo Lì a dormire Non ci credo È proprio È proprio Un cane Dormiglione Non si è accorto Neanche che sono uscita Dai Ronald Ronald Ah però Aveva percepito Che mi ne ero andata Mi sto facendo Le feste Come mi fa di solito Quando esco Beh Ed è allora Come premietto Che sia stato buono Ecco Un biscottino Dai Vieni Vieni Bravo E ora Vai La corda Dai Porta La porta Sì La sto portando Forse No E vabbè Allora Quindi ragazzi Questa giornata Allo skate park È stata bellissima Abbiamo anche scoperto Dei segreti Di questo negozio E ora Mi metto a guardare Un po' di televisione E tra un po' Faccio merenda Se vi è piaciuta Questa mia avventura Allo skate park Mettete mi piace Perché presto Farò la mia prima lezione Di skate E forse sarò Un po' più brava Ciao Ciao